Bella raga, rieccoci con i nostri episodi di Team Fortress 2 Scusate se in questo periodo siamo stati un po' assenti Ma Swifter non c'è potuto essere in questi tempi perché ha avuto anche ospiti Va bene, riprendiamo con i nostri video Sì, per una settimana non ci sarà Swifter Perciò ci siamo solamente io e Neox Superlost in Sard Allora, questa puntata che è la quinta Stiamo facendo come potete vedere una MBS Machine In cui Neox è un demonitore E io sono un medico E come potete vedere ho una nuova pistola medica Che è il Vaccinatore Che si chiama Vaccinator Che ora andrei a descrivere in modo molto talentuoso Allora, quest'arma è questa pistola medica si potrebbe dire E secondo me è una pistola medica davvero pro Nel senso Allora, come potete vedere ci sono in basso a destra E forse l'avrete in modo diverso voi perché io ho l'AD Comunque L'UD, no l'AD L'UD, non so come si dice L'UD significa giungere in inglese No, quella è AD Oddio Ci hanno dato un'AD che devo cambiare classe che il demolitore non lo so usare Come metto il grosso Oddio Aia Comunque, questa nuova pistola medica Ehm Oltre a delle nuove armi Tipo per esempio Come il Luce Cannon Il Rescue Ranger e altre armi natalizie Sono state aggiunte appunto con l'aggiornamento di Natale E a mio parere non sono granché Cioè, si salva solamente il vaccinatore Comunque, dicevo In basso a destra vedete che ci sono per esempio Cioè, come potrete scrivere Quattro Uber Cariche L'Uber Carica, allora, fornisce Un certo Una certa difesa Il 10% in più di una difesa mi sembra Il 25% non me lo ricordo Comunque, per esempio per i danni di proiettile Come vedete sopra la freccia Sopra la testa di Neox Yes Sopra gli esplosivi Cioè È contro il fuoco Questo tipo di difesa Cioè Non le fornisce tutte e tre messe insieme Ovvero Oddio Oddio Ovvero Dov'è Neox? Ah, qui Ovvero Si cambia questo tipo di difesa Cliccando la rotella del mouse Vedete Questo è danno da proiettile Questo è da esplosivo Tipo da razzi O da demontare Sì, abbiamo vinto Sì Oh, meno Aspetta Devo cambiare classe Come si faceva a cambiare classe? Ah, yes Perfetto Questo che è quello Comunque Eh, poi Vabbè, quello da fuoco Poi Mi piace Comunque Per esempio L'Ubercarica Che cacchia In inglese aveva questo? Lol Lol Comunque Questo vaccinatore A me piace Come arma Cioè Come pistola medica Mi devo Potrei mettere Questo Yeah Ma l'ha che bisogno di virtuoso Io l'ho munissima Sì, ma l'ho capito Alla fine sta St'arma in potenza o no? Ma sì, sì Dai, si può dire di sì Con le armi normali Questa per esempio Ah, l'Ubercarica Si guadagna col Alla Il guadagno dell'Ubercarica È aumentato Dell'F4 Del 50% Cioè, nel senso Non mi riesco a esprimere oggi La Recarica La guadagna Il 50% più velocemente Esatto Lol Sì, adesso Yes Spamita Adesso Vi faccio vedere Come l'Ubercarica Ah, comunque L'Ubercarica Non si attiva tutte insieme Nel senso Eh, quattro volte Si attiva l'Ubercarica Cioè Aspetta Viene Neox Uno Siamo diventando tanto Due Ah, un scudo E vabbè Poi Tre, quattro E ora che l'Ubercarica Che succede? Eh, questo Quello lì L'arma super 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 Facciamoci conoscere Ciao amico Adesso gli dico Saluta No, non so Saluta Ah Portere a bomba di Sio Argentata Ammazzabot Vedi Postato da lui Say hello Ok, sì Hello Aspettate un attimo Raga Che qui Eh, mica Aiuto a me Ecco No Ho avvertito Ah, è già iniziata Ah, no Devi mettere F4 Già ho messo F4 Non F4 Oddio E ora posso Spam Oddio Non se posso curare qualcuno Non ho visto chi c'è in questa ondata Allora Due Mega Pyro Dieci Mega Dieci grossi Due grossi che danno pugno Ma non ho capito cosa sono queste Queste iconcine Tipo carro armato Sembra Non lo so Eh Carro armato Non lo so Dai dai scendi in campo che attivo l'uber carica Ma non ho munizione Aspetta Ma mi sta Che schifo di uber carica Eh, dammi un uber carica quella che non mi fa morire mai No, quella è della pistola medica normale Ok, vedete Adesso lui prenderà meno danno Guardate, le armi vanilla sono le migliori Forse la scatola nera è l'icarma Che Adesso per esempio io metto il fuoco E io e Nioxx riceveremo meno danno da fuoco Cioè il 25 Sarà trattenuto il 25% dei danni Lo curare, vieni Anzi, cura, mi dovete dare munizione Aspetta, ti metto fuoco Vai, 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 vai Guardate, ho sordato la orgia Sono morto Un mito Aiuto Che figa Sto ho visto la Sto ho visto la mia Sei morto anche tu, vedi Sei troppo squishy Squishy, 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 squishy Mamma mia Tu, tu, squishy Quel robot aveva il morbo di Parkinson Perché? Perché vedi Vabbè tutti i robot Ok, dai Oddio Monete un minuto Aiuto, aiuto Era una trappola Quel teletrasporto Quel teletrasporto Cioè quelli sono fermi Oddio Comunque uso l'overdose col pistolo Con il medico Oddio Ma dov'è, dove sono gli altri Ah, io sono nella base Sto morendo Nooo Un millimetro Un millimetro Ah no, è morto No, scherzato No, 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 no Partito, uccidilo Uccidilo E dai Uccidilo Ma vabbè No, no, ma dai No Questo è un frito sul tetto Yes Va bene raga Comunque Partito di Cioè Continuo Ora mi aumenta il danno Perché devo fare malissimo Allora, io direi che Mi non so perché Non ho la cosa La Ah, perché è Natale Per questo Perché è Natale Esattamente 620 crediti Cosa posso fare Con 620 crediti Aumento della velocità Della guarigione Mi metto con il vaccinatore Aumento della velocità Dell'uber carica No, vabbè Dai, mi metto questo Durante l'uber carica Ah, durate Dell'uber Aumentate di 2 secondi Che fatto Che mi consigli Sai berlo senza anete Io ti consiglio di avere una vita felice Grazie Busso di critici Uber carica No, rifornimento Ci potrebbe attivare l'uber carica E condividi i potentiamenti Ma un po' mi secca Perciò Secca ti Io tu non godivi mai Basta, basta, basta Non ti sto picchiando Dai, fatemi fare un po' di Uber Mi sto capendo da stai Questo è il coso dei poveri Laila Un grazio dei povero Dove sei il Saber Lostenzan e te? Sono sulla casa Quella al centro della mappa Questa è una stagione Ma non sai quello è normale Va, così poi mi posso buttare in mezzo alla mischia Vabbè, magari Aspettiamo che inizi l'ondata E ci sentiamo dopo Ma non abbiamo un ingegnere Vieni, vero Vabbè, mettici Vabbè, ci prepariamo e ci sentiamo dopo, raga Ok, raga L'ondata è iniziata E... Male Molto male Neox è un ingegnere E mi secca a curarlo Quindi andrò a curare altre persone Tipo questo Che mi sento un po' provo Poco poco provo Col bazooka dei poveri Ma non c'è tutto la torretta con quel tempo È un barbone questo È un barbone povero Esatto Un bazooka dei barboni Dai Dai Oddio 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 Comunque rispetto per esempio alla pistola medica normale e alla Kriz Gregg Questa pistola medica guadagna più velocemente l'Ubercarico Sì ma quella medica normale è la migliore Oddio! No! Mamma mia! Mi sono salvato! Oddio! Oddio! Dispense! Sì l'attacca briga è morite tutti yes! Ha potenziato le sue costruzioni grazie alla sua borraccia Bravo! Sì borraccia Oddio! Oddio! Posizione strategica per attaccare i grossi Oddio! Oddio! Mi ha shottato! Niente ragazzi Non ciò faremo male No niente È difficile Si è andata Uè la bomba è stata detonata Ci esecutano anche Ah no Abbiamo vinto Ah no Ad esempio Cioè mancava un paero grande Un paero normale Ma basta Ora mi faccio l'ingegnere Riavviare la mappa? No io la vorrei cambiare Se si può Si può? Scrivi Change the map Change the map Change map Cioè c'erano io come faccio l'ingegnere Vabbè ci prepariamo e ci sentiamo dopo raga Ok raga È riniziata l'ondata Comunque ho deciso un po' di cambiarmi il medico Perché Mi erano Non ci sta Nelle main versus machine Non ci sta Scusate se è venuto un episodio un po' Luggetto si può dire Era tanto per spiegare l'arte Vabbè io ci mancano Anche se Ho scelto il pari all'ultimo minuto Non mi sono fatto nessun Soldi for me Per salire qui sopra basta che dopo che saltate premete anche CTRL Io c'ho la cosa che me la fai in automatico CTRL Cioè Abbassate Oddio Io mi vorrei cambiare arma Vabbè Niente ci fa Vabbè io direi che facciamo un altro minutino e poi basta Raga Sì c'è i critici nell'attacca briga Vediamo che riesca a distruggere il primo paro gigante Sì I'm coming for you Oddio Oddio Saldoni Oddio Jump Pyro Bravo amico Vabbè io direi che Accendiamo GG Ho andata completa Abbiamo preso soldi praticamente Vabbè direi Vabbè raga Questo era un episodio Per far vedere che ho In questa modalità Dedicato Alla spiegazione del vaccinatore Che spero Aspetta Vieni qui Dove sono io all'entrata della mappa Vi devo far vedere una cosa Dove sei? Che rendite la mappa Nova Goku Dove sei? Dai dove arriva tutti I man vs machine Ah là Vabbè arrivi Vabbè 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 vabb Ciao!